e Presentiamo questa sera l'ultimo lavoro di Alessia Stefania Lorenzi E volevo sognare Un romanzo che effettivamente ci insegnerà cosa significa sognare ci insegnerà il valore del sogno E volevo sognare è un romanzo un romanzo che unisce la letteratura e quindi il mondo della finzione a un aspetto della realtà che è triste per quanto attuale perché la vicenda è ambientata in Zimbabwe e il protagonista è un bambino sappiamo che lo Zimbabwe è uno degli stati più poveri dell'Africa l'ha generato da problematiche politico-sociale e anche economico-sanitarie molto forti, molto attuali e in questo quadro sociologicamente molto difficile si instaura la vicenda di Nakia Nakia è il nome del bambino protagonista del libro di Alessia un bambino speciale che saprà trovare in se stesso la forza di poter sognare Nakia oltre che essere il protagonista di questo libro è anche la voce narrante è un narratore autodiregetico diremmo quindi è un narratore che in prima persona ci racconta la sua storia e vorrei soffermarmi sul titolo il titolo e volevo sognare risulta essere quasi un grido un grido a metà un grido a metà un grido a metà un grido a metà perché quei puntini di sospensione hanno un significato cioè volevo sognare ma tutto ciò che mi circondava mi diceva di no tutta la situazione che vivevo mi diceva che era impossibile ma io volevo sognare quindi il sottotitolo è proprio quello cioè io volevo sognare ma era difficile la situazione era quella che era ma io mi arrampicherò sulla vita e costruirò il mio sogno quindi io ce la farò e non bollare scusa potrei dire una cosa che vedo in questo momento sia nella copertina che nella quarta c'è la natura una cosa molto bella ecco perché allora spiego perché allora nella quarta di copertina c'è la situazione c'è un paesaggio dello Zimbabwe c'è proprio un tipico paesaggio africano e qui la situazione in cui si trova il ragazzino questa invece è la via verso il suo sogno e gli alberi di Iacranda sono sul viale di Ara che porta verso l'aeroporto quindi è proprio il cambio c'è la sua situazione iniziale e la sua situazione sì, la copertina vuole un po' se ti dicono che solo uno su mille ce la fa tu sentiti di quello uno e comportati di conseguenza e se anche ti dicessero che hai solo una probabilità su un milione tu considerati quella probabilità la tenascia vince sempre questo è proprio il primo pensiero diciamo punto di pressione che apre il libro apre la storia io dico parte da questo presupposto il fatto che una persona non deve e non deve mai sentirsi impossibilitato a fare qualcosa cioè anche se ti dicono ma hai una probabilità su un milione eh, magari sono io quella probabilità ma hai una probabilità su un milione